Due adolescenti della Salerno Bene sono destinatari di un'ordinanza cautelare che dispone il collocamento in comunità. Entrambi i minorenni sono ritenuti responsabili di gravi episodi di revenge porn e di diffusione di materiale pedopornografico. L'inchiesta, coordinata dalla procura per i minorenni di Salerno, inizialmente ha permesso di appurare che uno dei due ragazzi aveva diffuso, tramite whatsapp, un video sessualmente esplicito della sua ex fidanzata. Immagini che poi sono state barattate dall'amico su chat di gruppo whatsapp e telegram, innescando un conseguente effetto a catena. Gli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine sui telefoni cellulare degli indagati hanno permesso di appurare la detenzione di una incente quantità di materiale pedopornografico ritraente altre minorenni. Un segnale, rilevano gli investigatori, che conferma la pericolosità del secting, ovvero lo scambio di contenuti sessualmente espliciti in rete. Gli accertamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni da parte delle forze dell'ordine.